Ciao ragazzi, sono Tommaso. E io sono Lucas. Siamo Isara. Vi risponderemo ad alcune domande per un aperitivo con... Cominciamo dalle domande difficili. Sicuramente il lockdown ha dato una mano alla nostra condizione di compositori, aiutandoci, obbligandoci a massimizzare gli sforzi in questo nostro progetto. Ma parlando della scena musicale non penso ci sia nessun apporto positivo, nessun aspetto positivo di questa cosa. La mancanza di live si fa sentire sicuramente e la musica senza concerti non è musica, quindi speriamo passi in fretta. Più che tre motivi è un pezzo che parla di argomenti che vanno oltre al lockdown e alla pandemia su cui si può immedesimare tutti quanti. Parla di problemi e relazioni sociali e il tutto è messo giù in un modo molto facile, con delle sonorità molto leggere. Quindi, che dire, può essere un'esperienza piacevole. Certamente il sogno di chiunque condivide questo percorso con noi può essere senz'altro quello di fare di questa passione qualcosa di più. Per il momento non ci stiamo pensando, ma non ci precludiamo nessuna strada, dipende da come andranno le cose. Direi nove e non dieci, ma semplicemente perché si può sempre fare meglio. Io nella vita lavoro in un ufficio commerciale. Lavoro come ingegnere elettronico in un ufficio tecnico. Un pezzo può nascere da una progressione di accordi oppure da una linea melodica, vocale, qualsiasi tipo di idea. Io mi occupo dei testi e delle linee vocali e invece Tommaso della strumentale. Solitamente poi ci vediamo, ci mettiamo d'accordo, finalizziamo il tutto. Dato il periodo che stiamo passando ci sentiamo molto spesso su Skype. Non c'entro nulla con la scena italiana, però glasto un po' di tutta la vita. Il concerto dei miei sogni sarebbe il Rock in Rio sicuramente, ma se voglio stare con i piedi per terra dirò San Siro. Sì, sono impegnato. No. Quindi vi ringraziamo, andate a cercarci, ascoltate 2020MQ e grazie ragazzi di Un Aperitivo Con.